Per cercare di farle arrivare più mince, in modo tale anche da fare più uva possibile. E' difficile perché rimane basso. Eh sì, sì sì sì. Allora, questa è appunto la famosa linea di razzo. Anche in questo caso siamo in due sette di un buro. Un buro che è sempre un buro di un buro, invece la calda di un buro 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 di un buro. Grazie.